Bentornati su Radio Design, oggi sempre in compagnia di Paolo, benvenuto Paolo. Grazie Nico, sempre un piacere essere qua. Allora, continuiamo a parlare di influencer e veniamo subito al punto. Abbiamo raccontato la settimana scorsa che il mondo digitale si sta spostando sempre di più in chat, sempre più private, stanze sempre più private, e oggi di cosa parliamo Paolo? Parliamo di Discord, un'altra applicazione che ai vecchietti come noi non dirà niente, però parliamo di una piattaforma che sta rivoluzionando il mondo dell'influencer marketing, scopriamo come. Intanto vorrei rendere merito a chi mi ha fatto scoprire questo articolo, il grandissimo Sant'Amico nella sua chat privata di social media updates, quindi grazie Massimo. Abbiamo letto questo articolo, molto interessante, quindi la tendenza è questa, ci spostiamo sempre di più in chat private, non è un fenomeno nuovo, anzi è un fenomeno che risale alle famose chat tematiche, i forum come tipo GTA, i famosi GT di Giorgio Tave, dove si scoprivano tante cose fighe da fare a livello sia SEO e non, e c'è un ritorno, c'è un ritorno perché il principale modo per monetizzare per gli influencer, o comunque per i producer, quelli che possiamo chiamare anche talents, tutti coloro che producono contenuti, che hanno un certo appeal su un certo pubblico, avvengono come? Come si monetizza? Creando delle chat private, dei gruppi Facebook privati, in questo caso proprio un sistema di chat creato appositamente, chiuso, per creare una relazione diretta tra l'influencer e i propri fan. Mi sorprende come siano cambiate nel corso di pochi anni le parole d'ordine, prima parlavamo di villaggio globale, mettersi in contatto con un'altra persona da un'altra parte del mondo, confrontarsi con persone che hanno gusti e interessi diversi ai nostri, e ora invece cerchiamo chat private, chiuse, nelle quali puoi entrare solo tramite invito, vogliamo stare con persone che la pensano grosso modo come noi, è anche un po' il concetto di filter bubble, diciamo che è arrivata a elevarsi a sistema. E guarda caso, le ultime novità hanno tutte, le ultime grandi novità di questo tipo, hanno tutte a che fare col mondo del gaming, che ha veramente una grande spinta propulsiva in questi ultimi due o tre anni. Pensa a Twitch. Sì, Twitch che lo ricordiamo è una piattaforma di video streaming che è nata esclusivamente per il mondo del gaming, se non sbaglio, di proprietà di Amazon. Credo anch'io. Credo sia di proprietà di Amazon, Twitch. Twitch è cresciuto e esploso nell'ultimo anno in una maniera impressionante. Sì. Per esempio ci sono tantissimi youtuber che sono nati addirittura su Twitch. Adesso non mi ricordo il nome, ma quello più famoso italiano che è veramente un deficiente che fa dirette continue e se tu fai delle donazioni puoi far ascoltare in viva voce le cazzate che dici, che lanci come messaggio audio, tu pensa. Perfetto. Siamo arrivati oltre i famosi 15 secondi di celebrità, ora siamo arrivati al messaggino vocale di celebrità. Contenti noi, contenti tutti. Esatto, esatto. Non riesco a ricordare il nome, comunque poi ci penso. Comunque, come funziona Discord? Torniamo a noi. Discord intanto ha già 200 milioni di utenti. Senza che noi ce ne fossimo minimamente accorti. Pazzesco, è verissimo. 200 milioni di utenti, che non sono due, sono 200 milioni. Come funziona? Si gioca sempre come tattica principale di ogni piattaforma sull'esclusività e quindi sull'invito, così come nacque la famosa Gmail. È vero. Avere la Gmail era solo su invito. È stato sempre... Era la Cadillac delle caselle di posta. Mi è piaciuto questo. È citato pure la canzone di Salmo e Sfere Basta. Ma stiamo diventando giovanissimi, ragazzi. Mamma mia, troppo giovani. Tra un po' da beremo. E quindi c'è stato un dissing. Eravamo partiti così seri e poi torniamo a Pia. Sbracchiamo sempre. Come funziona quindi? Su invito, anche qui. Ricordo un pochino questo sistema, il famoso Slack, che è un chat orribile. che è definita un chat che serve per la produttività, ma secondo me crea solo confusione e delirio a Las Vegas. 30 secondi fa l'avevamo definita il lato negativo dell'ufficio. Cioè, già l'ufficio non è un granché. Tutti i lati positivi. Dimenticate, gli Slack tiene soltanto la parte peggiore, quella che volete dimenticare quando tornate a casa. Esatto, esatto. Slack fa veramente schifo e complica le cose, perché c'è una sorta di WhatsApp che però ha all'interno delle aree tematiche. Lo stesso, così funziona Discord. Ma qual è, diciamo, il modello di business di Discord? Intanto è una piattaforma che si basa per il momento esclusivamente sulla monetizzazione di quegli influencer dei gamer. che quindi tramite sistemi tipo Patreon, che voi forse tutti conoscete, sono sistemi con dei reward. Cioè, io mi abbono a te, ho accesso a determinati contenuti esclusivi. Soldi, soldi. Ecco, poi pensate a un deficiente magari di 16 anni che paga un PewDiePie. Non lo so, PewDiePie non c'era il sistema Patreon, credo. Credo anch'io, però non mi sbilanzo. Lui monetizzo solo con YouTube. Però ci sono santissimi gamer che, appunto, tramite Patreon danno accessi esclusivi a una chat, tu pensa, per parlare con questa fava che gioca ai videogame. Quindi non so cosa puoi chiedere a un pirla che gioca a Fortnite, però funziona così. Evidentemente, questo è proprio un nuovo sistema per relazionarsi sia ai personaggi famosi, tra virgolette, che ai brand, perché questo è un rapporto direttissimo. Ok, tu paghi. Cioè, l'influencer è prezzolato per ammetterti nella sua cerchia. Quindi non è un rapporto spontaneo, ma ha la forma di un rapporto spontaneo. Quindi voi pensate a chi vuole posizionare certi tipi di prodotti e lo fa in degli spazi digitali targettizzati, molto piccoli, quasi delle sette, possiamo dire, quasi delle caste. Quindi tu riesci ad attivare perfettamente il cliente che vuoi attivare. E in più, non dimentichiamo l'impatto culturale che ha questa cosa. Cioè, abbiamo letto poco fa di un dialogo tra il famoso campione di Fortnite, tale Ninja, che io mai avevo sentito nominare, ovviamente. Ciao Ninja. Ciao Ninja, grandissimo. Grande, condividi questo video. E il rapper Drake. E Drake ha scoperto l'esistenza di questa piattaforma di Discord tramite le dritte del Ninja. Anzi, Der Ninja, vorrei dire. Der Ninja. Che così puoi, Erfaina, però, che gioca a Fortnite. Drake è uno con i turbo miliardi. Esatto. E penso a Drake sulla chat che chatta con questo. Er Ninja gli dà le dritte e gli dice, insegna a campare. Esatto. Il mondo è veramente triste, ma funziona così. Altre particolarità di questa, diciamo, questa piattaforma, appunto, dicevamo, l'esclusività, quindi su invito. Qual è il punto di forza rispetto ad altre piattaforme che qui tu puoi creare, ti puoi scrivere alla velocità della luce, puoi creare un'area tematica, puoi invitare le persone e poi nel momento in cui ti sei rotto le palle, lì puoi buttare fuori tutto. Come ti pare? Quindi è un sistema ottimo da un punto di vista della moderazione delle chat tematiche. Sì. Ed ecco perché probabilmente ha avuto questo così grande appeal tra gli influencer, perché spesso il problema principale sono gli haters. Eh già, ma infatti si sta tornando a un sistema verticistico. Se leggevate un manuale di digital marketing di metà anni 2000 era pieno di quel grande ottimismo. Ora verrà rivoluzionato il sistema verticale, orizzontalità, la democrazia dal basso. Benissimo. Stiamo tornando a un sistema verticistico. Io dico una cosa, tu l'ascolti, i canali di Telegram cosa sono? È la rottura dell'interattività che animava il web 1.0 e 2.0. Ci siamo resi conto che non è per forza una buona idea questa interattività. Il canale che funziona in due direzioni non porta sempre arricchimento. Porta casino. Quindi io decido chi può entrare nella mia chat. Addirittura c'è la possibilità tramite Discord di assegnare dei ruoli specifici e qualcuno assegna dei ruoli a seconda di quanto sborsa il malcapitato. Quindi se vuoi contare qualcosa riempimi di soldi su Patreon. Esatto, esatto. Per esempio, giusto per citare un caso pratico diciamo agli occhi di tutti il famoso Break in Italy è l'esempio più lampante di come Patreon possa funzionare. Grande. In questo caso non è un deficiente che gioca a Fortnite è una persona che si sbanta e fa un video al giorno non so come riesce a farlo. Di qualità. Di grandissima qualità. Riesce a racimulare un sacco di soldi tramite Patreon oltre alla monetizzazione di YouTube che però sappiamo non è così avvincente per il movimento. Per noi italiani poi. Esatto, però per YouTube Italia non è un granché. E quindi diciamo giusto per chiudere il discorso è torniamo a quello che ho detto inizialmente cioè una tendenza sempre più evidente delle persone ma soprattutto delle generazioni Z, XY e i giovanissimi che rifuggono totalmente alla chat pubblica per carità e vanno sempre più alla ricerca di nuove nicchie di privacy e questo è un esempio lampante perché è praticamente molto spesso popolato proprio dai teenager popolato da teenager però stanno venendo fuori dei casi non tanto chiari perché dicono che alcuni personaggi dell'altra right abbiano già messo le mani su Discord e sappiamo che la gestione di queste nicchie di opinione sono state veicolate anche abilmente non in maniera dolosa ma con grande abilità sono state guidate verso alcune posizioni piuttosto che altre quindi consideriamo che questa che questa variabile non conta soltanto nel mondo del gaming non conta solo nel mondo del marketing e quello dell'economia ma conta nel mondo politico sociale è una vera rivoluzione è un cambiamento quindi le persone possiamo dire che un po' tendono a rifuggere sempre di più il confronto quindi lo fanno con le abitudini d'acquisto lo fanno con le inclinazioni politiche e cercano sempre più spazi caldi confortevoli e separati quindi pensiamo alle chat di 4chan dove negli Stati Uniti parlavano di politica esatto 4chan famosissimo però i media tradizionali erano sicuri che avesse vinto Hillary eppure su 4chan stava succedendo un casino questa cosa crea anche quello che citavi tu ma anche diciamo problemi ancora più grandi perché diciamo di cyber security perché come spesso veniva additato nel periodo massimo di attentati i canali telegram come luoghi in cui appunto visto visto che telegram ha questo sistema che cripta i messaggi end to end quindi diciamo totalmente privati e criptati lo stesso vale per questi ambienti chiusi che tutelano ad altissimi livelli la privacy ma che poi creano problemi anche di sicurezza creano delle strane sacche che di per sé non avrebbero niente né di buono né di cattivo ma che possono celare al loro interno situazioni da attenzionare tu hai citato l'alt-right giusto per spiegarlo perché secondo me non tutti sanno diciamo i nazi bianchi sì allora mi piace perché l'hai toccata piano però quelli che hanno supportato Trump sapete che c'è sì i nazi bianchi un saluto ai nazi bianchi si chiamano alt-right quelli che da noi sono la Lega sostanzialmente giusto per farvi un bel parallelo né più né meno ci facciamo sempre un sacco di amici oppure le scie chimiche dei 5 stelle insomma decidete voi volevi essere proprio amato dalle forze di governo esatto i pelati amici di Zingaretti lo sono io quando è che parte il nostro aereo? sta per partire no comunque è molto interessante adesso anch'io mi farò un giretto su questo discord e vediamo un pochino come funziona era molto interessante come notizia perché è freschissima e il bello è che anche persone che magari lavorano in questo ambito poi si girano a un certo punto è nata la piattaforma con 200 milioni di utenti funziona così bellissimo e noi ci rimaniamo sempre peggio perché ogni volta rimaniamo sempre più spiazzati e non sappiamo più di cosa cazzo si parla ogni volta poi questi sono anche fuochi di paglia perché mi ricordo social network sempre su invito che aveva fatto il botto per un periodo non mi ricordo neanche più come si chiama one ah sì 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 mi ricordo però è veramente un ricordo involverato oramai veramente ho già disinstallato tutto quindi non lo so sì anch'io ho smesso di seguire la cazzata del momento spero che tiktok faccia la stessa fine anche se ce lo auguriamo un po' tutti è stato oggetto di discussione in questo fantastico podcast che per concludere direi potete seguirlo ovunque vi potete abbonare su itunes vi potete gratuitamente vi potete abbonare gratuitamente su spreaker su spotify mentre ascoltate i truzzi come sfere basta in video su facebook che oramai se siete anziani ci state ancora in video su youtube per quelli più giovani direi che può bastare direi che può bastare ma arriveremo anche su queste app per giovanissimi gamer e potremmo dire parole terribili tipo headshotato chillato e roba simile allora lancio questa idea fighissima di streammare in contemporanea su facebook e twitch la prossima puntata è bello streamare bello molto bello streamare è veramente un sogno bene siamo stati veramente seri siamo sempre il top quindi voi lo sapete siete abituati bene siete abituati benissimo a questo punto salutiamo i nostri sei ascoltatori incredibilmente in diretta non so chi siano ho quasi paura vi amiamo tutti e sei tutti e sei è stato veramente un sogno questa è una battuta che non è venuta bene però ciao ciao